Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte quinta. Jean Valjean. Libro primo. Qualche pagina di storia. Capitoli dal sesto al decimo. Capitolo sesto. Marius turbato. Javert laconico. Diciamo ora cosa accadeva nei pensieri di Marius. È opportuno ricordare il suo stato d'animo. Sappiamo già che per lui tutto era solo una visione. Il suo giudizio era vago. Marius, insistiamo pure, era sotto l'ombra delle grandi ali tenebrose spiegate sugli agonizzanti. Si sentiva nella tomba e gli pareva di essere già dall'altra parte della muraglia. Vedeva le facce dei vivi solo con occhi da morto. Come mai Foche-Levon era là? Perché? Cos'era venuto a fare? Marius non si era affatto rivolto tutte quelle domande, d'altra parte, poiché la nostra disperazione ha la particolare caratteristica di avviluppare gli altri al pari di noi. Gli sembrava logico che tutti dovessero morire. Pensava solo a Cosette, con una stretta al cuore. Del resto, Foche-Levon non gli parlò, non lo guardò e non pareva avere udito quando Marius aveva alzato la voce per dire «lo conosco io». Quanto a Marius, quel modo di fare di Foche-Levon lo sollevava, e se si potesse usare una parola per esprimere tali impressioni, diremmo che gli piaceva. Aveva sempre avvertito un'assoluta impossibilità di rivolgere la parola a quell'uomo enigmatico, che per lui era al tempo stesso equivoco e imponente. Inoltre, era molto tempo che non lo vedeva, cosa che, data la natura timida e riservata di Marius, aumentava ancora quell'impossibilità. I cinque uomini designati uscirono dalla barricata attraverso la Ruelle Mont-de-Tour. Parevano perfette guardie nazionali. Uno di essi si allontanò piangendo. Prima di partire, abbracciarono coloro che rimanevano. Quando i cinque uomini restituiti alla vita furono partiti, Enjolrat pensò al condannato a morte. Entrò nella sala inferiore. Javert, legato al palo, era immerso nei suoi pensieri. «Ti serve qualche cosa?» gli chiese Enjolrat. Javert rispose «Quando mi ucciderete?» «Aspetta, in questo momento abbiamo bisogno di tutte le nostre cartucce». «Allora datemi da bere», disse Javert. Enjolrat stesso gli portò un bicchiere d'acqua e, poiché Javert era legato, l'aiutò a bere. «È tutto?» riprese Enjolrat. «Sto male legato a questo palo», rispose Javert. «Non siete stati teneri ad avermi fatto passare la notte qui. Legatemi come preferite, ma potreste comunque stendermi su un tavolo come quell'altro». e indicò, con un movimento del capo, il cadavere di Mabeuf. Come è noto, in fondo alla sala vi era una tavola ampia e lunga, sulla quale erano state fuse palle e preparate cartucce. Poiché le cartucce erano state fabbricate e la polvere impiegata tutta, quel tavolo era libero. Per ordine di Enjolrat, quattro insorti liberarono Javert dal palo e mentre lo slegavano, un quinto teneva una baionetta puntata sul suo petto. Gli lasciarono le mani legate dietro la schiena. Gli misero ai piedi una corda di frustino sottile e solida che gli permetteva di fare un passo di 15 pollici, come si usa con chi sta salendo sulla forca, e lo fecero marciare fino alla tavola in fondo alla sala dove lo stesero, strettamente legato alla vita. Per maggior sicurezza, con una corda al collo aggiunsero a quel sistema di legacci che gli rendevano impossibile qualsiasi evasione, quella specie di legatura detta martingala nelle prigioni che parte dalla nuca, si biforca sullo stomaco e arriva fino alle mani dopo essere passata tra le gambe. Mentre legavano Javert, un uomo sulla soglia lo scrutava con singolare attenzione. L'ombra prodotta da quell'uomo fece volgere la testa a Javert che alzò gli occhi e riconobbe Jean Valjean. Non trasalì neppure, abbassò fieramente le palpebre e si limitò a dire «perfetto». Capitolo VII. La situazione si aggrava. La luce del giorno cresceva rapidamente, ma non una finestra si apriva né una porta si socchiudeva. Era l'aurora, non il risveglio. In fondo alla rue de la Chambrerie, il tratto di fronte alla barricata, sgomberato, come si è detto, dalle truppe, sembrava libero e si apriva ai passanti con una tranquillità sinistra. La rue Saint-Denis era muta come la via delle Sfingi a Tebe, non un essere vivente ai crocevia sbiancati da un riflesso di sole. Nulla è più lugubre di quella luminosità nelle strade deserte. Se non si vedeva niente, qualcosa si sentiva. A qualche distanza era cominciato un misterioso movimento. Evidentemente, il momento critico si avvicinava. Come la sera prima, le vedette ripiegarono, ma questa volta al completo. La barricata era più forte che non durante il primo attacco. Dopo la partenza dei cinque, era stata ulteriormente elevata. Avvertito dalla vedetta che aveva osservato la zona delle Halle, Enjolrat, temendo una sorpresa alle spalle, prese una grave decisione. Fece barricare lo stretto budello delle Ruel Mondetour, rimasto libero fino a quel momento. Perciò, un nuovo tratto di selciato fu rimosso per tutta la lunghezza di qualche casa. Di modo che la barricata, alzata su tre vie, davanti, sulle Rue de la Chambrerie, a sinistra, sulla Rue du Signe, e la Petite Renderie, a destra, sulle Ruel Mondetour, era pressoché inespugnabile. «Vero è che vi si era fatalmente rinchiusi. La barricata aveva tre fronti, ma era senza uscita. Fortezza, ma trappola per topi», disse ridendo Courfeyrac. Enjolrat fece ammucchiare accanto alla porta della taverna una trentina di selci, divelte in sovrappiù, diceva Bursuet. Dalla parte da cui doveva giungere l'attacco, il silenzio adesso era così profondo che Enjolrat fece riprendere a ciascuno il proprio posto di combattimento. A tutti fu distribuita una razione di acquavite. Non c'è nulla di più strano di una barricata che si prepari ad un assalto. Ognuno sceglie il suo posto come ad uno spettacolo. Chi si appoggia su un fianco, chi sui gomiti e chi con la schiena. C'è qualcuno che si fa un sedile con le selci. Là c'è un angolo di muro che dà noia, meglio allontanarsi. Qua c'è una sporgenza che può offrire protezione, vi si cerca riparo. I mancini sono preziosi perché occupano i posti altrimenti scomodi per gli altri. Molti si sistemano per combattere da seduti. Ci vuole una posizione comoda per uccidere e confortevole per morire. Durante la funesta guerra del giugno 1848, un insorto dalla temibile mira che combatteva dall'alto di una terrazza sopra un tetto, si era fatto portare una poltrona a Voltaire. Fu lì che il colpo di mitraglia lo trovò. Appena il comandante ordina di occupare i posti di combattimento, ogni movimento disordinato cessa. Niente più strattonarsi a vicenda né capannelli o individui appartati, né bande separate. In attesa dell'assalitore, negli animi tutto converge e si tramuta. Prima del pericolo, una barricata è caos. Nel pericolo, disciplina. L'emergenza stabilisce l'ordine. Non appena Injolra ebbe preso la sua carabina a due colpi e si fu piazzato presso una sorta di merlo che si era riservato, tutti tacquero. Un crepitio di piccoli rumori secchi e che giò confusamente lungo la muraglia di pietre. Si stavano armando i fucili. Del resto, il contegno di tutti era più fiero e fiducioso che mai. Un estremo sacrificio rafforza. Non avevano più la speranza, ma la disperazione. La disperazione, ultima arma che a volte dà la vittoria. Così ha detto Virgilio. Le ultime risorse vengono dalle risoluzioni estreme. Talvolta, imbarcarsi con la morte è un mezzo per sfuggire al naufragio e il coperchio della bara diventa una zattera di salvataggio. Come la vigilia, l'attenzione di tutti era rivolta e si potrebbe quasi dire puntata verso il fondo della strada, ora illuminata e visibile. L'attesa non fu lunga. Dalla parte di Saint-Lieu si avvertiva distintamente la ripresa di una certa agitazione che non somigliava ai movimenti del primo attacco. Uno schioccare di catene, lo scuotersi allarmante di una massa, il picchettio del metallo contro il selciato, una sorta di solenne fracasso, annunciarono che si stava avvicinando qualche sinistra ferraglia. Un fremito percorse le viscere di quelle vecchie, pacifiche strade, aperte e costruite per una feconda circolazione di interessi e di idee, piuttosto che per il mostruoso passaggio delle ruote della guerra. La fissità delle pupille di tutti i combattenti sull'estremità della via si mutò in ferocia. Apparve un cannone. Gli artiglieri spingevano l'ordigno già in assetto di tiro. L'avantreno era stato staccato. Due uomini reggevano l'affusto, quattro stavano alle ruote, altri seguivano col cassone delle munizioni. Si vedeva il fumo della miccia accesa. «Fuoco!» gridò Enjolat. Tutta la barricata fece fuoco. La detonazione fu spaventosa. Una valanga di fumo coprì e cancellò cannone e uomini. Ma qualche secondo dopo la nube si dissipò e gli uomini e la macchina riapparvero. Lentamente, con precisione e senza darsi premura, i serventi al pezzo finivano di spingerlo di fronte alla barricata. Non uno che fosse stato colpito. Poi il capopezzo, spingendo sulla culatta per alzare il tiro, puntò il cannone con la gravità di un astronomo che punti un cannocchiale. «Evviva i cannonieri!» gridò Boussouet. E tutta la barricata batté le mani. Il momento dopo, il cannone, appoggiato esattamente nel bel mezzo della via, a cavallo del canaletto di scolo, era in batteria con la sua formidabile gola aperta sulla barricata. «Stiamo allegri!» disse Kulferac. «Ecco il bruto! Dopo il buffetto parte il pugno! L'armata allunga la zampa! Sarà una bella scossa per la barricata!» «La fucilata tasta!» «Il cannone agguanta!» «È un pezzo da otto, nuovo modello, in bronzo!» aggiunse Conferre. Per quanto si superi di poco la proporzione di dieci parti di stagno su cento di rame, questi pezzi sono soggetti a scoppiare. L'eccesso di stagno li rende troppo teneri. Così capita che abbiano delle cavità e delle camere nel focone. Per evitare questo rischio e per poter forzare la carica, si dovrebbe forse ricorrere ad un procedimento del XIV secolo, la cerchiatura, e rivestire l'esterno del cannone dalla culatta sino all'orecchione con una serie di anelli di acciaio senza saldatura. Nel frattempo si rimedia come si può al difetto cercando di scoprire dove sono i buchi e le cavità nel focone con il gatto. Ma un sistema ancora migliore è la stella mobile di Griboval. «Nel XVI secolo, osservò Bossuet, si rigavano le canne dei cannoni?» «Sì», rispose Conferre, «così si aumenta la potenza balistica, ma si diminuisce la precisione del tiro. Nel tiro a breve distanza la traiettoria non ha tutta la tensione desiderabile. La parabola è esagerata e il percorso del proiettile non è rettilineo come si vorrebbe per colpire gli oggetti intermedi, come richiede il combattimento, specialmente in vicinanza del nemico, e quando si tira al precipizio. Il difetto di tensione della curva del proiettile nei cannoni rigati del XVI secolo si doveva alla debolezza della carica che pure per questo tipo di ordigno era imposta da esigenze balistiche quali per esempio la conservazione degli affusti. Insomma, il cannone, vero despota, non può tutto ciò che vuole, sicché la forza è una grossa debolezza. Una palla di cannone fa soltanto 600 leghe all'ora mentre la luce ne percorre 70.000 al secondo. Tale è la superiorità di Gesù Cristo su Napoleone. «Ricaricate le armi», disse Injolrat. Come si sarebbe comportato il rivestimento della barricata sotto le palle di cannone? Il colpo avrebbe fatto breccia? Lì stava il punto. Mentre gli insorti ricaricavano i fucili, gli artiglieri caricavano il cannone. Nella ridotta l'ansia era profonda. Partì il colpo e la detonazione eccheggiò. «Presente!» gridò una voce gioiosa. Come il proiettile si abbatté sulla barricata, Gavroche piombò nella ridotta. Arrivava dalla parte della Rue du Signe e in un baleno aveva scavalcato la barricata secondaria che faceva fronte al dedalo della Petite Troanderie. Nella barricata Gavroche fece più effetto della palla di cannone. Il proiettile era andato a perdersi nel groviglio delle macerie spezzando tutt'al più una ruota di omnibus e dando il colpo di grazia alla vecchia carretta al che tutti si erano messi a ridere. Continuate gridò Bossuet agli artiglieri. Capitolo ottavo Gli artiglieri si fanno prendere sul serio. Gavroche fu circondato ma non ebbe il tempo di raccontare nulla perché Marius tremante lo prese in disparte. Che ci viene a fare qui? Oh guarda disse il ragazzo e voi e fissò Marius con la sua epica sfrontatezza. I due occhi si facevano grandi della luminosa fierezza interiore. Marius proseguì con tono severo chi ti aveva detto di tornare almeno hai consegnato la lettera all'indirizzo. Gavroche non era affatto privo di rimorsi per quella lettera nella fretta di tornare alla barricata più che consegnarla se n'era liberato era costretto ad ammettere con se stesso di averla affidata con una certa leggerezza a quello sconosciuto di cui non aveva neanche potuto distinguere il viso. È vero che l'uomo era a testa scoperta ma ciò non bastava. Insomma andava facendosi a quel proposito qualche piccola rimostranza interiore e temeva i rimproveri di Marius per trarsi d'impaccio prese la risoluzione più semplice mentì vergognosamente cittadino ho consegnato la lettera al portinaio la signora dormiva avrà la lettera al suo risveglio Marius nel mandare quella lettera si prefiggeva due scopi dire addio a Cosette e salvare Gavosch dovette accontentarsi della metà di ciò che voleva l'invio della lettera e la presenza del signor Fauchelevent sulla barricata destò nella sua mente un'associazione così indicò a Gavosch Fauchelevent conosci quell'uomo? no disse Gavosch in effetti come abbiamo appena ricordato Gavosch aveva visto Jean Valjean solo di notte le congetture fosche e morbose che si erano affacciate alla mente di Marius si dissiparono conosceva forse le opinioni del signor Fauchelevent il signor Fauchelevent poteva essere repubblicano e ciò bastava a giustificarne la pura e semplice presenza in quella battaglia nel frattempo Gavosch era già l'altro capo della barricata e gridava il mio fucile Courfeyrac glielo fece restituire Gavosch avvisò i compagni come li chiamava lui che la barricata era bloccata aveva penato molto ad arrivare un battaglione di fanteria che teneva i fucili nella petite truanderie controllava la rue du Signe dal lato opposto la guardia municipale occupava la rue de Precher di fronte c'era il grosso dell'armata Gavosch data quell'informazione aggiunse vi autorizzo a dargliele di santa ragione intanto Enjolrat l'orecchio teso spiava dalla sua postazione merlata gli assalitori forse poco soddisfatti della cannonata non l'avevano ripetuta una compagnia di fanteria era andata ad occupare la strada dietro il cannone i soldati scalzavano le pietre del selciato e con quelle costruivano un muretto una sorta di parapetto non più alto di 18 pollici che fronteggiava la barricata all'angolo sinistro del parapetto si vedeva la testa di colonna di un battaglione del circondario ammassato in rue Saint-Denis a Enjolrat che stava allerta parve di distinguere il rumore prodotto dalle cariche a mitraglia quando vengono levate dai cassoni e vide il capopezzo cambiare il puntamento e inclinare leggermente la bocca del cannone a sinistra quindi i cannonieri presero a caricare l'ordigno finché lo stesso capopezzo afferrò la miccia e l'avvicinò al focone abbassate la testa rasenti al muro gridò Enjolrat tutti in ginocchio lungo la barricata gli insorti sparpagliati davanti alla taverna e quelli che avevano lasciato il loro posto di combattimento all'arrivo di Gavroche si precipitarono alla rinfusa verso la barricata ma prima che l'ordine di Enjolrat fosse eseguito la scarica esplose con lo spaventoso rantolo di un colpo di mitraglia e di mitraglia si trattava in effetti la carica era stata mirata sulla fenditura della ridotta da lì era rimbalzata sul muro e quel rimbalzo spaventoso aveva fatto due morti e tre feriti se fosse andata avanti così la barricata sarebbe stata indifendibile la mitraglia apriva un varco si levò un mormorio di costernazione impediamogli il secondo colpo disse Enjolrat e abbassando la carabina mirò al capo pezzo che in quel momento chino sulla culatta del cannone rettificava e fissava definitivamente il tiro quel capo cannoniere era un bel sergente d'artiglieria molto giovane biondo con un viso dolce e l'aria intelligente propria dei combattenti di quell'arma predestinata e temibile che continuando a perfezionarsi nell'orrore finirà per uccidere la guerra conferre in piedi vicino a Enjolrat considerava il ragazzo che peccato disse che cosa orribile questa carneficina coraggio quando non ci saranno più re non ci sarà più guerra Enjolrat mira quel sergente e non guardarlo nemmeno prova ad immaginare che è un bel giovane è intrepido si vede che ha cervello questi artiglieri sono giovanotti istruiti avrà un padre una madre una famiglia e forse è innamorato avrà tutt'al più venticinque anni potrebbe essere tuo fratello lo è disse Enjolrat sì riprese conferre anche per me ebbene non lo uccidiamo lasciami fare ciò che va fatto e una lacrima scivolò lentamente sulla guancia come di marmo di Enjolrat nello stesso istante premette il grilletto un lampo e l'artigliere girò due volte su se stesso le braccia in avanti e la testa alzata come per cercare l'aria poi cadde di fianco sopra il cannone dove rimase immobile si vedeva la sua schiena che in mezzo sprizzava un fiotto di sangue la palla gli aveva attraversato il petto da parte a parte era morto dovettero portarlo via e rimpiazzarlo era pur sempre qualche minuto guadagnato capitolo nono come vennero impiegati quel vecchio talento di bracconiere e quella mira infallibile che avevano influito sulla condanna del 1796 sulla barricata si incrociavano i pareri il cannoneggiamento stava per riprendere non avrebbero resistito più di un quarto d'ora a quella mitraglia era assolutamente necessario ammortizzare i colpi enjolra lanciò questo comando ci vuole un materasso non ne abbiamo disse conferre ci sono sopra i feriti fino a quel momento jean valjean seduto in disparte su un paracarro all'angolo della taverna col fucile fra le ginocchia non aveva preso parte alcuna agli eventi sembrava non sentire i combattenti che dicevano intorno a lui ecco un fucile che non fa nulla all'ordine dato da enjolra si alzò si ricorderà come durante l'assembramento in rue de la chanvrerie una vecchia prevedendo la sparatoria avesse sistemato un materasso davanti alla sua finestra nella soffitta di una casa a sei piani posta appena fuori della barricata il materasso messo di traverso poggiava in basso su due stanghe per asciugare la biancheria mentre in alto era sostenuto da due corde che da lontano sembravano due fili ancorate a dei chiodi piantati nello stipite dell'abbaino quelle due corde si distinguevano chiaramente contro il cielo come due capelli qualcuno può prestarmi una carabina a due colpi disse jean valjean enjolra che aveva appena caricato la sua gliela tese jean valjean mirò verso l'abbaino e fece fuoco una delle due corde era spezzata il materasso pendeva solo per un filo jean valjean sparò il secondo colpo la seconda corda frustò il vetro della finestra e il materasso scivolando fra le due aste cadde nella strada la barricata applaudì tutte le voci gridarono ecco il materasso sì disse confer ma chi andrà a prenderlo infatti il materasso era caduto fuori della barricata fra gli assediati e gli assedianti la morte del sergente d'artiglieria aveva esasperato la truppa tanto che i soldati da qualche minuto si erano sdraiati ventre a terra dietro la trincea di selci di velte e per supplire al forzato silenzio del cannone muto in attesa della riorganizzazione del servizio avevano riaperto il fuoco contro la barricata gli insorti per risparmiare le munizioni non rispondevano a quella moschetteria le fucilate si infrangevano sulla barricata ma la strada spazzata dai proiettili era terribile Jean Valjean dalla fenditura uscì nella strada attraversò l'uragano di proiettili raggiunse il materasso lo raccolse e se lo caricò sulle spalle quindi tornò alla barricata mise egli stesso il materasso nella fenditura e lo fissò contro il muro perché gli artiglieri non lo vedessero dopodiché tutti aspettarono il colpo a mitraglia né quello tardò il cannone con un ruggito vomitò la sua dose di pallettoni ma non ci fu rimbalzo la mitraglia abortì sul materasso era stato ottenuto l'effetto previsto la barricata era protetta cittadino disse Injolrat e Jean Valjean la repubblica vi ringrazia Bossuet che rideva ammirato esclamò è immorale che un materasso abbia tanto potere quello che si piega trionfa su quello che folgora ma non importa gloria al materasso che annulla un cannone capitolo decimo Aurora in quel momento Cosette si svegliava la sua camera era stretta pulita e appartata con una lunga finestra levante che dava sul cortile interno della casa Cosette era all'oscuro di ciò che stava accadendo a Parigi il giorno prima non era in città e quando la Toussaint aveva detto sembra che ci sia del movimento era già rientrata nella sua stanza aveva dormito poche ore ma profondamente i suoi sogni erano stati dolci forse perché il letto era così bianco qualcuno che era Marius le era apparso nella luce si svegliò con il sole negli occhi e le parve ancora di sognare uscendo da quel sogno il suo primo pensiero fu di gioia si sentiva rassicurata stava attraversando come Jean Valjean qualche ora prima quello stato d'animo che rifiuta ogni sventura senza sapere perché cominciò a sperare con tutte le sue forze poi sentì una stretta al cuore da tre giorni non vedeva Marius ma si disse che doveva avere ricevuto la sua lettera certo sapeva dove era ed era abbastanza intelligente da trovare il modo di raggiungerla sicuramente lo farà in giornata forse questa mattina stessa era giorno fatto ma i raggi del sole cadevano orizzontali Cosette pensò che fosse molto presto ma che in ogni caso avrebbe dovuto alzarsi per ricevere Marius sentiva che senza di lui non avrebbe vissuto e quindi Marius doveva venire nessuna obiezione era ammissibile le cose stavano sicuramente così era già abbastanza spaventoso avere sofferto tre giorni Marius assente per tre giorni che cosa orribile da parte del buon Dio ma quel crudele dispetto del cielo era già una prova superata Marius sarebbe venuto e avrebbe portato una buona notizia la giovinezza è fatta così asciuga in fretta le lacrime trova inutile il dolore e non lo accetta la giovinezza è il sorriso dell'avvenire di fronte ad uno sconosciuto che è lei stessa essere felice le è naturale sembra che il suo respiro sia fatto di speranza del resto Cosette non riusciva a ricordare le parole di Marius riguardo a quell'assenza che doveva durare un solo giorno né quale spiegazione le avesse data sarà capitato a tutti di notare l'abilità con cui una moneta lasciata cadere a terra corra a nascondersi e con quale arte si renda introvabile lo stesso scherzo giocano a volte i pensieri si rintanano in un angolo del nostro cervello e addio sono perduti impossibile riportarli alla memoria Cosette si indispettiva per quel piccolo inutile sforzo della sua memoria si rimproverava e si sentiva colpevole di avere scordato le parole pronunciate da Marius uscì dal letto e fece le due abluzioni dell'anima e del corpo disse le preghiere e fece toiletta si può forse introdurre il lettore in una camera nuziale ma non in una virginale la poesia l'oserebbe appena la prosa non deve proprio è l'interno di un fiore non ancora aperto è un biancore nell'ombra è la cellula intima di un giglio chiuso che l'uomo non deve guardare finché non l'ha guardata il sole la donna in boccio è sacra quel letto innocente che si scopre quell'adorabile seminudità che ha paura di se stessa quel piede bianco che si rifugia nella pantofola quel petto che si vela davanti ad uno specchio come se lo specchio fosse una pupilla e la camicia che risale in fretta sulla spalla per un mobile che scricchiola o una carrozza che passa quei nastri annodati quei ganci chiusi quei lacci tirati i trasalimenti i brividi di freddo e di pudore e quel turbamento squisito in ogni gesto quell'inquietudine quasi alata là dove non c'è nulla da temere e incantevoli come le nuvole dell'alba le successive fasi della vestizione ma non è il caso che tutto ciò venga raccontato accennarlo è già troppo l'uomo deve guardare il risveglio di una fanciulla più religiosamente di una stella che sorge e una simile possibilità deve volgerlo al rispetto la peluria della pesca il cinerino della prugna i cristalli di neve l'ala della farfalla incipriata di piume sono cose grossolane vicino a quella castità che non sa nemmeno di essere casta la giovinetta non è che un chiarore di sogno e non è ancora una statua la sua alcova è nascosta nella parte più scura dell'ideale il tocco indiscreto di uno sguardo brutalizza quella vaga penombra perché in questo caso contemplare è profanare non mostreremo dunque nulla di tutte quelle soavi piccole faccende del risveglio di Cosette un racconto orientale dice che la rosa era stata fatta bianca da Dio ma che dopo lo sguardo di Adamo nel momento in cui si schiudeva si era vergognata diventando rosa noi siamo fra quelli che trovandole venerabili si sentono interdetti davanti alle fanciulle e ai fiori Cosette si vestì in gran fretta si pettinò e si acconciò i capelli operazione molto semplice in quel tempo in cui le donne non gonfiavano i boccoli e le bande con cuscinetti o imbottiture ne vi aggiungevano altri ornamenti poi aprì la finestra e fece vagare lo sguardo dovunque attorno a lei nella speranza di intravedere un pezzetto di strada un angolo di casa o una striscia di lastricato dove sorprendere l'arrivo di Marius ma nel mondo esterno non si vedeva nulla il cortile era chiuso da muri piuttosto alti e non aveva per orizzonte che qualche giardino Cosette stabilì che quei giardini erano orribili per la prima volta nella sua vita trovò brutti i fiori il minimo tratto di canaletto al crocevia le sarebbe parso più utile decise poi di guardare il cielo come se pensasse che Marius potesse venire anche di là all'improvviso si sciolse in lacrime non che fosse d'animo volubile ma era in una situazione di continue speranze e delusioni provò un vago e confuso senso di orrore le cose in effetti si sentono nell'aria si disse che non era sicura di nulla che perdersi di vista era perdersi e l'idea che Marius potesse tornarle dal cielo non le apparve più attraente ma lugubre poi tali sono queste nubi la calma tornò e la speranza e una sorta di sorriso incosciente ma fiducioso in Dio nella casa dormivano ancora tutti regnava un silenzio come di provincia nemmeno un'imposta veniva spinta la guardiola del portinaio era chiusa Toussaint non era ancora alzata e Cosette pensò semplicemente che anche suo padre dormisse molto doveva aver sofferto e ancora adesso soffriva nel dirsi che suo padre era stato cattivo ma contava su Marius l'eclissi di una tale luce era decisamente impossibile di tanto in tanto sentiva in lontananza come dei colpi sordi e si diceva è strano che si aprono e si chiudano i portoni così di buon'ora erano le cannonate che battevano la barricata appena sotto la finestra di Cosette sotto il vecchio cornicione annerito c'era un nido di rondini la bocca di quel nido sporgeva un poco oltre il cornicione tanto che dall'alto si poteva vedere dentro quel piccolo paradiso c'era la madre che teneva aperte le ali a ventaglio sopra la covata il padre svolazzava se ne andava poi tornava riportando cibo e baci nel becco la luce che si levava indorava quella cosa felice la grande legge moltiplicatevi era lì sorridente e augusta e quel dolce mistero si manifestava nella gloria del mattino Cosette i capelli nel sole l'anima nei sogni illuminata dentro dall'amore e fuori dall'aurora si sporse meccanicamente e senza quasi confessarsi che stava pensando a Marius si mise a guardare quella famiglia di uccelli quel maschio quella femmina quella madre e quei piccoli con il profondo turbamento di una vergine davanti a un nido di una vergine di un po' Grazie a tutti